...attendo con si stessi con le proprie condizioni. Accurato alla regia di 35 misori di Intreatment, si è rincentrato sull'esperienza professionale di un psicoterapeuta e di un'altra parte da Sergio Castellitto. Quindi il premio Simpatia va a Saberio Gustanzo per il grande impegno profuso nel cinema italiano. Grazie mille, grazie mille, grazie. E poi a giorno gli autori parlano attraverso il loro quadro, tutti i racconti storici, le racconti in una maniera così. No, grazie mille, grazie mille. Poi c'è Santa Maria che poi lui ci porto e lo spieghià. Poi lui farà un monologo concerto, ha fatto le prove tre giorni fa. Grazie mille. La foto, la rete il foto.